L'intervento dei carabinieri di Torino per sedare una lite tra i redi nell'abitazione di un noto antiquario locale deceduto per cause naturali ha fatto scoprire un piccolo tesoro, vasi e ceramiche di origine antica detenuti illegalmente in casa. Il ritrovamento si collega con l'attività che aveva portato al sequestro nel settembre 2012 di una ricca collezione, 238 reperti archeologici di origine etrusca e romana di epoca compresa tra il VI e il III secolo a.C. per un valore di oltre 300.000 euro. Nel loro intervento i carabinieri avevano notato gli oggetti all'apparenza antichi e di valore in bella vista in una credenza del salotto e avevano richiesto l'intervento del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino. Gli accertamenti, in collaborazione con la sovrintendenza torinese, hanno permesso di individuare anche altri importanti reperti sempre detenuti illegalmente. Gli oggetti sono stati confiscati.